ciac si gira sul sette marchigiano tutto al naturale sono iniziate le riprese della nuova campagna di promozione turistica delle marche affidata quest'anno all'attore neri marcorè fino a giovedì 29 maggio saranno girati gli spot che da metra a giugno promuoveranno i turismi made in marche sui principali media Senigallia, Urbino, Grotte di Frasassi, Porto Novo, San Benedetto del Tronto, Lago di Fiastra, Fermo e Ascoli Piceno queste le location scelte per restituire un'immagine completa e unitaria dell'offerta turistica marchigiana un assaggio dei diversi cluster di prodotto turistico di cui si compone la strategia d'insieme con neri marcorè Ascoli Piceno sarà nuovamente protagonista Comunque 8 location che corrispondono ai cluster di prodotto della strategia turistica regionale e alle regole introdotte dall'Unione Europea per ottenere il finanziamento di questa iniziativa con risorse europee La regia è affidata a due quotati e giovani creativi marchigiani, Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia, vincitori di premi internazionali Obiettivo principale della campagna valorizzare le capacità di accoglienza e l'ospitalità dell'offerta turistica regionale Si vuole inoltre rafforzare il salto di paradigma che le marche stanno compiendo verso l'affermazione come luogo dei luoghi e dell'esperienza irrinunciabile Una terra nel cuore dell'Italia, ospitale e meravigliosa, ricca di storia e natura dove far sentire il turista coccolato dal primo all'ultimo momento della vacanza Gli spot con Harry Marcoree saranno un concentrato di tutto questo delle vere e proprie storie da godersi dall'inizio alla fine e dalle quali sarà facile lasciarsi catturare Gli spot con Harry Marcoree Gli spot con Harry Marcoree